Ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds Mi presento sono Beppo, Beppo 393 e questa è la serie della Road to Diamonds Nello scorso episodio abbiamo costruito la farm di Mob Ragazzi sono stato off camera come vedete un pochettino poi ho lavoricchiato e adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto Ma comunque questa farm... ok per funzionare funziona Madonna mia funziona anche un po' troppo bene va bene che ho messo un buttanaio di luci ma vi faccio vedere che cosa ho fatto Madonna comunque si funziona No... eh ciao a tutti mi chiamo... Porca... vi giuro ragazzi prima di iniziare a registrare non funzionava così Vabbè considerate che... vabbè ok madonna mia comunque ho giocato off camera Allora aggiorniamo intanto le mappe Nooo porchita vacca Ok e aggiornando la mappa vedete ovviamente il tetto finisce sopra la ca... eh 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 avete notato guardate Vedete sicuramente gli occhi più arguti avranno notato che cazzo non l'ho fatto off camera Allora dovremmo pure aggiornare credo questa bam poi credo questa non lo so credo le ho aggiornate tutte Che cosa ho fatto off camera? Intanto eh... avevo 60 livelli quindi se li ho usati tutti Per craftarmi un paio di picconi che ho messo tutti qua Allora mi è uscito un piccone con... mi sono usciti tanti diamond drill in poche parole Allora questo qua è quasi un diamond drill, gli manca soltanto efficienza 5 Ne ho approfittato per consumare pure i miei vecchi picconi Infatti sono andato in miniera e adesso tra un po' vi faccio vedere Poi vabbè questo qua è il piccone che ho consumato però questo qua tocco di velluto E volendolo potrei riparare però ripararlo questo piccone mi sa che mi viene a costare E infatti questo qua è il piccone che avevo prima io, quello con tocco di velluto ok? Qui abbiamo un tocco di velluto e indistruttibilità e lo useremo per quando dovremmo riparare un piccone con efficienza Tipo che cazzo ne so questo Poi è uscito sto piccone efficienza 3, fortuna 2 diciamo un po' scatò Adesso io scenderei in miniera perché voglio farvi vedere che cazzo ho fatto off camera Raga mi sono portato un bel po' avanti quindi vabbè qui ho preso la diorite Questa non l'ho presa perché era troppo in alto Qui ho intenzione di fare un'altra cosettina E qua dentro TADAAAAN L'ho riempito tutto e dico tutto di diorite Poi qui ce n'è ancora E poi questi sono tutti i materiali che ho preso andando in miniera Perché sono andato a cercare la diorite che useremo tra qualche episodio Ma tornami il mouse che fa Comunque ve lo posso dire ragazzi qui in questo buco andrò a fare magari un ascensorino veloce 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 Ma tornami il filo di sto mouse E mi si muove mi si Aspettate un attimo che mi si ingastra Maledizione la merda che ti ingastri Io devo giocare io Vi dicevo ragazzi qua dopo bucherò farò un ascensore in modo tale che se voglio venire in miniera Tranquillamente ci posso andare pure dal Da fuori casa e dovrebbe sbucare tipo là Tipo E vabbè raga in questa cesta abbiamo un puttanaio di carbone È troppo carbone Facciamo una cosa me lo piazzo tutto qua E io dovrei avere il piccone con fortuna Eccolo qua ragazzi questo qua è il diamond drill che non possiamo 43 utilizzi Ma si ricaricano da soli picconi Raga l'avevo portato a uno Vabbè utilizziamo il diamond drill e prendiamo tutto sto carbone Comunque raga l'avevo portato a uno ma perché si ricaricano Non ha l'abilità ripristino Vabbè Ah un'altra cosa Eh caspe no 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 la faccio subito la faccio Perché se no mi picchiate Ovviamente i commenti li leggo Solo che negli episodi scorsi sono sincero Me lo sono dimenticato di dirlo Passo gelato Mi avete detto che cosa fa Ed è una cosa fighissima Guardate Vedete E poi questo ghiaccio dopo un tot ritorna normale Ma posso andare veloce? No non posso andare Devo per forza camminare Vabbè vedete Vedete E il ghiaccio dopo un po' ritorna normalmente acqua È una cosa carina Se volete vedete Se volete camminare nell'acqua È carina come cosa E me l'avete detto voi qui sotto nei commenti Molto molto carini Sì stivali Sì però basta Perché se no mi congella tutte cose E va bene Poi c'è l'abilità ripristino Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove? Eccolo qua ripristino Ripristino ragazzi Semplicemente dovrebbe utilizzare La mia esperienza Almeno è così come me l'avete spiegato voi Dovrebbe utilizzare la mia esperienza Tipo in questo momento avrei 34 livelli Per ripararmi gli oggetti Ed effettivamente Ciao mi scrivono su Prozap Ed effettivamente potrebbe essere una cosa carina Così gli oggetti non si rompono E tra virgolette dovrebbero ripararsi sempre Almeno credo Sono tipo in costante riparazione Penso Almeno questo è come lo sto immaginando io Voi mi avete detto semplicemente Che utilizza i livelli per ripararsi Quindi Boh In ogni caso devo rompere tutto sto carbone E devo stare attento anche a non rompere il diamond drill Perché vi ricordo Dobbiamo andare a costruire un'armeria Dove andare a mettere il nostro diamond drill Visto che ahimè non possiamo più ripararlo A meno che non facciamo un libro Che cazzo ne so Con ripristino E magari quei livelli si ripara Ma preferisco ripararli alla buona vecchia maniera Con l'incudine Così non ho nulla che mi consuma i livelli piano piano Nel frattempo vedete Con fortuna ragazzi No aspettate Troppo carbone L'abbiamo portato a un utilizzo A meno che non si ricarica Ma non si sta ricaricando E lo andiamo a mettere per il momento qua Il nostro diamond drill 1.0 E qui abbiamo il nostro altro piccone Con fortuna 3 Ragazzi questo qua sappiate Che è il nostro diamond drill 2.0 E lo rinominerò E la prossima volta che dovrò ripararlo Anche perché dobbiamo farlo diventare un'efficienza 5 E probabilmente utilizzerò un piccone di questi Che ho portato al limite Io sento i ragni E sicuramente Saranno loro No Ah sono là sono Infatti pensavo io What the fuck Io sento un cazzo di ragno Dove cazzarola Eh Come cazzo ci sei arrivato qua Così giusto Per capire io Come cavolo Ma va Fanculo va E siccome non c'ho voglia di rompere Ancora tutta sta redstone E tutto sto carbone Rompo soltanto Questi diamanti E questo ve lo faccio vedere Perché sono sempre diamanti E questi Smeraldi Allora avevamo 15 blocchi Usiamo Ok Fortuna 3 Vediamo da 15 blocchi di diamanti E da 4 di smeraldi Smeraldi Cosa ci esce Ma ton ma ton mi Vabbè da 15 blocchi di diamanti Ne abbiamo fatti 39 E da 4 ne abbiamo fatti 7 Allora direi di posare Questi smeraldi E questi diamanti Abbiamo quasi 3 stack E mi va benissimo Mi sono svuotato questa ceste Questa è tutta Erba che ho preso Appunto scavando là E ho levato tutta la terra Che avevamo in questa Cioè guardate quanto cazzo di terra Che ho usato Un casino E questo è quello che ho fatto Ho anche piazzato le torce E ho più o meno spianato Devo ancora chiudere questo buco Anche questo lo farò off camera Vedete guardate Vi faccio vedere Vedete Qui sotto c'è la terra Che è quella che ho usato Per chiudere il tutto Poi qui la terra L'ho finita E ci ho messo la stone Perché aveva il piccone Con tocco di velluto Poi devo andare a chiudere Tutta questa cosa Cioè Questa per chiudere Ci vorranno tipo Le ore Ma Devo essere sincero A me ste cose mi rilassano Cioè fare le cose inutili Su Minecraft Mi rilasso A me piace un casino Rompere il grano E ripiantarlo Oppure che ne so Girare in tondo E sciupare fame Adesso la vedete Questa specie Di montagnetta Di terra Io la stavo guardando Da qua E stavo pensando Che è molto Ma molto carina E sapete una cosa Che noi non abbiamo Nella Road to Diamonds Una cupola Infatti Che cosa stavo facendo Con la cobblestone Stavo cominciando A tracciare Non ne ho Stavo cominciando A tracciare Una circonferenza Visto che ho intenzione Di buttare Sì giù Tutta questa Collinetta di terra Ma al suo posto Vorrei tantissimo Creare una cupola Di vetro Ora creare la cupola Credetemi Un qualcosa Di incredibile Qui è a due Io l'avevo portato a uno Giuro L'avevo portato a uno E quindi una cosa Che dovrò fare Ovviamente Sarà fare tantissimo Vetro E anche questo Lo faremo comunque A breve In questi episodi E nel frattempo Vi volevo dire Anche un'altra cosa E intanto Cercherei il bioma Del deserto Che dovrebbe essere Da questo lato E mentre andiamo Nel bioma del deserto Ragazzi Volevo sfidarvi A fare una piccola Cosma Autonimi Qui ci sta Vabbè Ok Ragazzi L'abbiamo Un'altra fortezza Oddio Guardate Ma io non ho Visione notturna Oddio ragazzi Non so perché Ma riesco a vedere Sott'acqua Guardate qua Che figata Cioè ragazzi Qua abbiamo Un'altra fortezza Ma non abbiamo I debuff Ma perché Non abbiamo I debuff Eppure io Che farei Pure io Che faccio Ste domande Stupide Ma che cazzo Ragazzi Ma che cosa Una bandiera Sott'acqua Ci abbiamo Ma vedi te Minecraft Con te burlone Vi ricordo Che la fortezza Che ho fatto io Era molto più lontana Non ricordavo Ne avevo una Così vicina Ma tenendo questo Vi volevo dire una cosa Noi in questo momento Siamo all'episodio 146 Della Road to diamonds E manca Sempre meno All'episodio 150 Dove Vi ho promesso Che vi avrei lasciato In download La mappa Della road Ovviamente Aggiornata All'episodio 150 E adesso Io volevo Sfidarvi Ma volevo Sfidarvi Tantissimo La road to diamonds La guardate Circa in 30.000 Perché quasi ogni episodio Della road Almeno Intanto almeno Le 20.000 visual Le fa Ma nel corso Di alcuni giorni Magari 2-3 giorni I video della road Arrivano tranquillamente Sulle 30.000 Visualizzazioni Ok Adesso io volevo Lanciarvi una piccola sfida In tantissimi Mi chiedete che Vorreste un video Con la mia ragazza Ma adesso io vi chiedo una cosa Vi piacerebbe Se il 150esimo episodio Lo realizzassi Insieme Alla mia ragazza Ovvero Lo registra insieme a lei Se vi piace l'idea Ragazzi Vorrei tantissimo Che lasciaste Un bel pollicione In su Qui sotto al video E ragazzi Se arriviamo a 10.000 So che sono tantissimi Ragazzi Soprattutto per il mio standard Visto che Quando magari vi chiede Pollicione in su Diciamo tendenzialmente Arriviamo a 7-8.000 Ma siccome la road Comunque la guardate In 30.000 Capite bene Che di 30.000 10.000 like A un terzo Si può fare tranquillamente Quindi voglio sfidarvi Ragazzi Se questo 146esimo episodio Arriva a 10.000 like Il 150esimo Episodio della road Ragazzi Non sarò da solo Ma sarò con la mia Ragazza Sono sincero Non so ancora Se farlo con la web O senza Ma dipende da voi Ragazzi Dipende da voi In ogni caso Potevo craftarmi Una barchietta Però Ma scordave Ma scordave E me serve Tanta Sabbia Quante coordinate siamo Nel frattempo Mille Abbiamo percorso Circa mille blocchi Rompiamo Un albero E Lo utilizziamo Che per craftarcele Intanto Una crafting Piazziamo la crafting E poi mi faccio Ma si Dai Mi faccio Due belle Barchette Ma anche tre Dai E beh Così si Che è molto meglio Però qui Mi aspettavo Che ne so Un bel biomuccio Del deserto Però non sto trovando niente No Ragazzi No ragazzi No adesso non più Adesso non più Ma prima si eh Ragazzi Quella montagna Sembra troppo Un cucciolo di cane Guardate Il musetto Quello lì E l'orecchio Che Anzi a proposito È da tantissimo tempo Che non andiamo a vedere La montagna a forma Di Tucano Ve la ricordate La montagna a forma Di Tucano Barra Pellicano Barra quel Che cazzo era Mi sa che abbiamo trovato Intanto il bioma Dei funghi giganti E io Il piccone Con tocco di velluto Non è vero mai Un po' mi dispiace Che non abbiamo Questi biomi Vicino casa E infatti Siamo a meno 2000 blocchi Sarebbe stato molto carino Ad averceli vicino casa Però 2000 blocchi Che rottura Mi devo fare Intanto scaviamo qua Così Passiamo Dobbiamo fare la cosa Del nether Perché 2000 blocchi Non ci vuole un cazzo Saranno Sennò Un 200 300 blocchi Nel nether Circa Detto ciò Quando mi Si cala Vabbè Qui di sabbia Ce n'è tanta Però io voglio proprio Il bioma del deserto Però guardate Che bello Ragazzi Cioè guarda Siamo in un fiume Barra Laghetto Comunque diciamo Molto carino Mi piace Porca vacca Se non fosse così lontano Cazzarola Ci costruirei qua Comunque siamo arrivati Ripre Attornami Un colpo di pala Distrutta E ora che ci penso Non ha avuto senso Craftarsi tre barche Perché adesso Quando le rompi Le barche Te le droppa E anche se sbatti La barca non si rompe Quindi Eh poi le sue Oh Da quanto tempo è Che non vedevo Maiali e mucche Nella roa Ma io non capisco Perché nel mio mondo Non vogliono spawnare Cioè nel mio Ma beh va a fan cucchia Nel mio mondo Perché ora dove siamo Nel mondo di Girolamo Cosentino Ah 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 Rompo le nymph Dice verrà da tempo Che non vedevo mob Spawnare Tranquillamente Vicino a casa mia E non capisco Perché sinceramente Cioè I mob Dovrebbero spawnare Sul grasse Se c'è luce Perché vicino Da me Non spawnano Boh è fastidiosissima Questa cosa Boh Vabbè comunque Riprendiamoci la barca E andiamo da questo lato Guardate quella montagna Che strana Oggi è un episodio Un po' esplorazione Questi sono cavalli Pecore No pecore sono Ok Io però mi devo prendere Uno stack di patate Vabbè non è un problema Guardate quanti I bei maialozzi Scusate ragazzi Mi serve un po' di cibo Oh ma guarda Che magicamente Mi sono apparse Delle costruire Costruiretti Di maiale Cotte Nell'inventario Ah questi bug Ah questi bug Oh ma guarda Sono appena diventate 61 Ah questi bug Per due Non è caso ragazzi Vi stavo dicendo Che abbiamo costruito Parecchia In questi episodi E anche voi Mi avete detto nei commenti Che ogni tanto Vi piacerebbe Che alternassi Appunto episodi Tra virgolette Esplorazione Comunque magari Dove non costruisco Con episodi Appunto Dove costruisco Io c'ho l'elmo Quasi tutto distrutto Le scarpette Sono belle nuove Ma il bioma del deserto Io mi ricordavo Che era da questo lato Mi sa che ricordavo male Devo star nutire tantissimo Oh ma quante belle mucche No dove sono andate Sono sparite Sta diventando notte Sta diventando notte Sta diventando notte Nessuno lo può negare E questa notte passerà in fretta E questa notte passerà in fretta E questa notte passerà in fretta Nessuno Ah comunque si faccio gli screen Ma tranquilli È normale Perché io ho impostato un tasto Che veramente è stupidissimo Però va bene Non ci voglio credere Ragazzi è la stessa No ma va Siamo a 4000 blocchi da casa Vi ricordate Che per trovarlo Ci ho messo chissà quanto tempo Vedete Io ora sto cercando Il bioma del deserto E trovo il bioma della giungla Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Se è lo stesso bioma Qui siamo a coordinata E meno 4000 Siamo a 4000 blocchi da casa Oh Ed eccolo là Finalmente Ragazzi la ringa 4000 blocchi da casa Sono dovuto andare Per trovare una merda Di deserto Io intanto Qui abbiamo i cocomeri I cocomeri Che Abbiamo noi I cocomeri Boh Intanto aspettate Ne prendo uno Con tocco di velluto Perfetto Ed eccoci Qua Oh Sì Ora sì Che bello Guardate che bello Prendere la sabbia Ma tonmi Quanta sabbia Ma tonmi Ok È già qualcosa Ho buttato Come vedete Tutto quello Che mi era inutile Tipo le torce Il letto Però aspetta Sta diventando notte Dove Cazzo L'ho buttato Il letto Ok Eccolo qua Io farei Così Scusatemi Sono Sono un pisello Ok Dormi In modo tale Che facciamo passare La notte E Mo si torna a casa Quindi Sì Sto letto Lo rompo Così Non c'è Il rischio Che Spawno qua E si torna A casa Mi devo fare 4200 blocchi Inchia la voglia Quanto ho fatto Ah Bene Ok Ho fatto 500 blocchi Me ne mancano Altri 3.700 Perfetto Che romantico Però andare Verso la luna Eh Ed eccoci A casa Uuuuh Finalmente Mamma mia Allora Abbiamo fatto Un bel po' Di sabbia Qui abbiamo Dell'oro Qui abbiamo Del ferro Mattonmi 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 Sono dimenticato Di prenderlo Ragazzi Questo è tutto Ferro che ho trovato In caverna Puuuh Che sembra che vuol dire Mi sono fatto la farm di ferro Che dobbiamo fare pure la farm di ferro Quindi ragazzi Io spero Prima di terminare il video E quindi Io penso le cose tutte così La farm di ferro La farò là Sì 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 La farm di ferro Ragazzi La faremo qua Circa Magari questa zona La dedicheremo Tipo al Scaviamo Questa montagna E faremo La base Incassata qui Nella montagna E poi la farm Che è qua Non la voglio fare Troppo di qua Perché ho paura Che mi copra il pepo De Janeiro Quindi In questo momento Ho superato il braccio Come vedete Sono oltre il braccio E mi piacerebbe farla Tipo qua incassata La farm di ferro Può essere che la faremo Prima del centocinquantesimo Non che ci siano Tanti episodi In mezzo Però vabbè Sappiete che ogni tanto Dei video del genere Comunque li devo fare Perché mi pare giusto Anche farvi vedere Quando io vado A prendere materiali E siccome Tutta questa sabbia Non ce l'avevamo prima Cioè mi pare giusto Cioè non è che lo posso Fare off camera Era giusto che ci faceva Un episodio Dedicato a questo Detto questo ragazzi Io spero che il mio video di oggi Vi sia piaciuto Se è così Lascio un bel pollicione In su Qui sotto al video Vi ricordo che Se questo centocinquantesimo Episodio raggiunge I diecimila like Il centocinquantesimo Lo registrerò Insieme Alla mia ragazza Quindi ragazzi Ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao PS Siamo a un'ora E quindici minuti Di video Matonna mia Buona fortuna Peppo Mi dovrò divertire Nell'editing